Ed eccoci di nuovo in diretta mentre Papa Francesco sta per raggiungere la Basilica di Santa Maria Maggiore dove tra poco avverrà il primo dei due atti di devozione di questa giornata della festività dell'Immacolata. Una rosa d'oro deposta davanti all'icona a cui Francesco è devotissimo, Maria Salus Popoli Romani, sappiamo va a pregarglici ogni volta prima e dopo di un viaggio apostolico, l'abbiamo vista in Piazza San Pietro nella preghiera drammatica per il Covid del 27 marzo di tre anni fa, ma che significato ha quello di deporre una rosa d'oro davanti a questa icona? È il significato di una devozione profonda, è come se il Papa attraverso la rosa d'oro facesse vedere a tutti quello che è il suo amore e la sua venerazione per la madre del Signore. Ed è nello stesso tempo anche un particolare legame con il luogo, cioè il luogo dove il Papa deposita la rosa d'oro in onore della Vergine è un luogo che gli è particolarmente caro. E chi entra in quel luogo sa che entra in un luogo caro al cuore del Papa. Non è la prima volta che viene deposta una rosa d'oro davanti a questa icona, è successo 600 anni fa a Giulio III nel 1551 e a Paolo V nel 1613. oggi tocca a Francesco, però l'abbiamo visto anche in altri santuari, ricordo per esempio quando è stato a Fatima. Sì. Fare lo stesso gesto. Esattamente. Oggi Francesco con questo gesto ci vuole dire in un periodo in cui dubitiamo della salvezza. Dubitiamo della salvezza perché vediamo come la guerra, la violenza vadano avanti quasi senza porsi alcun problema, quasi senza porsi alcuna alternativa. Noi dubitiamo della salvezza. Questa rosa d'oro invece vuol dire che la salvezza c'è. Occorre però avere cuore e occhi capaci di aprirsi a questa salvezza. Pare Nicola, tante rose non d'oro sono state deposte anche nella grotta accanto alla statua di Maria a Lourdes. È così? Oggi è una giornata speciale? Certo, certo, certo. Subito dopo la Messa delle Dieci, la Messa Internazionale della Basilica San Pio X, con fatica perché ha piovuto tutta la mattinata, siamo andati a deporre tutte queste rose ai piedi della Madonna, la grotta, come adesso, insomma, da un po' di anni facciamo. Siamo stati lì, abbiamo ricevuto l'Angelus, questo atto di consagrazione alla Madonna, a Maria, questo atto d'omaggio. Quindi sono le rose che ogni rosa, possiamo dire, è una persona che è lì e che hanno mandato da casa, non potendo venire in questo luogo basato dal cielo, qual è la grotta di Lourdes, ma Sabiel, in questo giorno in cui ricordiamo, io sono l'immacolata congezione, e qui nel 5 marzo del 1858 a Bernadette, quando Bernadette molte volte, più volte, chiede mi dica il suo nome e lei sempre dice Bernadette mi sorride e non me lo dice. Tanto che quest'anno abbiamo voluto improntare un po' la novena dell'immacolata proprio sul sorriso di Maria, Maria che sorride. E nel sorriso Maria accoglie Bernadette, le apre il cuore, mostrandole il suo figlio Gesù. E quindi questo sorriso di Maria a Bernadette per noi è oggi come un richiamo, un invito a sorridere, sorridiamo, oggi e sempre, pare che ci voglia dire anche a noi, la Madonna, a quanti incontriamo e mostriamo loro come Maria il volto di Gesù, che è il gesto più bello che possiamo fare a noi stessi e a quanti incontriamo. Per Bernadette questo sorriso è stato importante, l'ha fatta sentire importante, lei stessa lo dice e quindi il sorriso è accoglienza, il sorriso è benevolenza, il sorriso è apertura, il sorriso è serenità. E' questo che vogliamo celebrare oggi, questo sorriso di Maria a Bernadette e noi vogliamo impegnarci, ecco, far nostro questo sorriso e portarlo a quanti incontriamo. Ed è quello che si sta facendo, sono arrivati anche quest'anno, tanti italiani, sono sempre un po' il numero più importante, qui a Santuario di Lourdes, l'8 dicembre e l'11 febbraio. E quindi sembra veramente dire che non ci sono difficoltà che tengono, nel tempo, nelle difficoltà economiche, nelle guerre che purtroppo ce ne sono e preghiamo sempre perché si smetta, si smetta presto e che torni la pace, lì dove è minacciata. Pareggio Matteo, che cosa festeggiamo nel giorno dell'Immacolata? Noi festeggiamo un particolare dono che Dio ha fatto a Maria, il fatto di preservarla dagli effetti del peccato di origine. Ecco, prendendo quello che diceva Padre Nicola, il peccato di origine ha tolto il sorriso dalla nostra vita e al posto del sorriso ha messo il ghigno o ha messo l'espressione aggressiva. Forse no al posto, accanto, dai, perché poi siamo capaci anche di sorridere, non soltanto di fare la faccia cattiva. Questo è vero, ma la faccia cattiva alle volte è veramente quella dominante, quella su cui poi dopo si prendono le decisioni. E invece l'azione di Dio in Maria ha reso Maria una donna capace di sorridere, cioè una donna che non ha paura né della vita né degli altri e soprattutto una donna che non ha nemmeno paura di Dio. Nel frattempo abbiamo visto le immagini in diretta dalla Basilica di Santa Maria Maggiore e in particolare abbiamo intravisto l'icona, eccola lì, di Maria Salus Popoli Romani, segno che Papa Francesco sta per arrivare probabilmente già in Basilica. Padre Nicola, tu prima ci dicevi, ci accennavi meglio, del legame che c'è tra l'Urd e l'Immacolata Concezione. Dopo i sorrisi, appunto, ce lo dicevi, Maria si presenta come l'Immacolata Concezione, eravamo appena quattro anni dopo la proclamazione di questo dogma e nel giorno dell'Immacolata Concezione, esattamente 90 anni fa, l'8 dicembre del 1933, è stata canonizzata Bernadette. Quindi, insomma, è proprio una giornata speciale quella di oggi per l'Urd. Specialissima oggi, infatti celebriamo anche il novantesimo anniversario della proclamazione, della canonizzazione di Santa Bernadette, che è stato un momento bello fatto anche lì sera, alla fine del flambeau, sempre alla Basilica San Piutecimo, abbiamo un gesto semplice di attenzione, di silenzio, di, diciamo, di devozione nei confronti di Bernadette. Ed è stato anche emozionante perché tutta la gente, tutti i peregrini che sono venuti per la festa dell'Immacolata, la chiesa, la Basilica San Piutecimo era abbastanza piena, e tutti in un silenzio molto composto e sono venuti a rendere omaggio alle reliquie di Santa Bernadette e siamo andati avanti per più di tre quarti d'ora facendo questo omaggio tra canti, invocazioni. E poi oggi ricorda anche l'anniversario della morte della mamma di Bernadette, Luis Casterot, e quindi, come dirò anche stasera a Rosario, è l'occasione buona e bella per ricordare e pregare per tutte le mamme perché svolgano questo ruolo che non sempre è facile, specialmente oggi, come l'ha fatto Maria, cercando di accompagnare i propri figli a quello che è il dono che hanno ricevuto e quindi con il battesimo, ma il non solo, anche quelli che non sono battezzati, che non essere accompagnati a una vita bella, a una vita migliore. Torno sul dogma dell'Immacolata Concezione, Padre Gianmatteo. Tu appunto lo spiegavi attraverso la metafora del sorriso. Tante volte quando parliamo, ci avviciniamo a Maria, anzi noi ci avviciniamo a Maria perché la sentiamo madre e sorella in qualche modo. No, tante volte ho sentito dire era una ragazza come tante altre. Ma il dogma dell'Immacolata Concezione non smentisce un po' il fatto che era come tante altre? Cioè il fatto che, il resto nella tua metafora, che mentre ragazze e ragazzi di tutte le epoche, di tutte le stagioni, accanto al sorriso, avessero il ghigno, e lei questo ghigno non ce l'aveva, non la rende irrimediabilmente diversa e quindi un po' più lontana da noi? No, non la rende lontana, ma sicuramente diversa sì. Diversa perché? Perché grazie al dono della Concezione Immacolata e grazie alla risposta che anche Maria, nel corso della sua vita, ha dato a questo dono. prima una risposta da bambina, poi una risposta da adolescente, poi una risposta da ragazza. Attraverso tutto questo, Maria si è resa conto che un altro mondo è possibile. E allora Maria, in questo senso, è diversa da noi. Noi non crediamo fino in fondo che un altro mondo sia possibile, cerchiamo gli aggiustamenti. Cerco un po' di qui, un po' di là. In questo invece Maria è stata una donna radicale. Un altro mondo è possibile, perché Dio lo rende possibile allontanando il male. E allora questo altro mondo possibile diventa veramente il centro di tutta la preoccupazione, diventa il centro delle attenzioni e diventa il centro su cui costruire l'intera vita come lei ha fatto. Ma una bambina, una ragazza, senza peccato originale, avrebbe potuto scegliere il male? Era libera anche lei? Maria è sempre stata libera. Il dono della concezione immacolata ha sempre preservato la libertà di Maria. Noi dobbiamo pensare che una delle conseguenze del peccato di origine è che noi non siamo pienamente liberi. Abbiamo pienezza del nostro libero arbitrio, cioè voglio fare questo, voglio fare quest'altro. Però non ci rendiamo conto che la pienezza della libertà è dire sì all'amore di Dio e sì all'amore del prossimo. In Maria questo non è avvenuto. Maria ha sempre sperimentato che la vera libertà sta nell'amare Dio e nell'amare il prossimo. A proposito di sperimentare, padre Nicola, che cosa sperimenti tu? Da quanti anni sei all'Urdo? Non lo so io questo. Sono entrato nel dodicesimo anno. Ecco, in questi dodici anni che cosa hai sperimentato assistendo e accompagnando tante persone nella loro devozione, nella loro, in qualche modo, conoscenza di Maria? Ma io devo dire che in prima persona ho potuto sperimentare qui in questi anni la tenerezza di Maria che in questo luogo in uno particolare la si sente, la si tocca con mano e l'ho sperimentata io e la sperimento io personalmente e poi conferma anche i pellegrini che vengono. Quanti, quanti arrivano qui con il cuore gonfio di preoccupazioni, di tristezza, di problemi e arrivano e poi quando partono dicono padre Nicola io devo dire grazie a questo luogo, grazie alla Madonna perché sono venuto appesantita e torno a casa alleggerita e quindi con il cuore più sereno con la voglia di vivere. Certo, i problemi rimangono sempre e la vita qualche volta rimane difficile così com'è però c'è una nuova forza, una nuova luce per affrontare il quotidiano e credo che sia proprio la bellezza dell'incontro con la mamma, con Maria ed è stato così anche per Bernadette Bernadette dice questa persona, questa signora mi fa sentire bene, mi parla come nessuno mi ha mai parlato, mi guarda e tutto questo le dà come la forza, la gioia, il coraggio di vivere quella vita che è la stessa che viveva prima di incontrarsi con la Madonna, quindi non è che durante le apparizioni Bernadette era una persona che era povera e diventata ricca, ricca sì della grazia di Dio senza rendersene conto piano piano, ricca di questa attenzione ma la ricchezza che è venuta più forte per Bernadette nell'incontro con la Madonna è stata proprio il sentirsi voluta bene e il sentire che lei è una persona e che ha la capacità di poter vivere nella libertà e donare tutto il bene che il Signore le mette nel cuore e quindi ed è vero incontrarsi con Maria fare l'esperienza di questa presenza nella propria vita ti cambia la vita te la cambia in positivo te la cambia nel darti coraggio nell'affrontare le difficoltà di ogni giorno e ti dice che un mondo migliore c'è e c'è e non c'è qualche problema con il collegamento con te padre Nicolò ma ti faccio un po' la stessa la stessa domanda perché tu non stai da 12 anni a Lourdes sei a Roma ma tutta la tua vita di religioso sacerdotale la è segnata da Maria tu sei un mariologo che insegna al Marianum più di così non si può perché hai fatto questa scelta e non so da quanti anni studi oltre che preghi Maria penso più di 12 occhio e croce no in realtà anch'io per quello che riguarda lo studio l'insegnamento sono 12 anni ma ecco credo che sia arrivato Papa Francesco ma però continua fino a quando non lo vediamo sì dicevo anch'io sono 12 13 anni per lo studio prima ero impegnato direttamente nella parrocchia quello che ho potuto vedere toccare con mano è chi sente la presenza di Maria si rende conto che il Vangelo non è sciocchezza non è fantasia e allora parlare di Cristo parlare della parola di Cristo non significa parlare di un mondo soltanto per qualcuno che ha paura di vivere al contrario parlare di Cristo e del Vangelo diventa l'urgenza più importante della vita e Maria io vedo è a servizio di questo Maria è qui per dirci Dio ce l'ha donata per dirci il Vangelo è vero e Cristo è vero e allora se Cristo è vivo e ti vuole vivo come dice Papa Francesco nella Christus Vivit tu che fai cosa rispondi proviamo a entrare con un attimo di anticipo rispetto a Papa Francesco forse nella Basilica di Santa Maria Maggiore ascoltiamo il canto che inizia la preghiera assistere alle preghiere di Papa Francesco così come facciamo noi rispettando il silenzio è anche un modo per sottolineare e vivere l'importanza del silenzio nella preghiera certamente sì perché la preghiera è il luogo dove occorre lasciare da parte le parole superflue e concentrarsi sulle parole essenziali e allora il silenzio è davvero la via che rende possibile questa divisione tra parole in fondo inutili e parole che fanno vivere anche perché parliamo spesso di preghiera come dialogo il dialogo non può funzionare se a parlare una persona sola esattamente e si spera che nel silenzio si riesca ad ascoltare dentro un po' di voce di Dio esattamente perché il fare silenzio è proprio il disporsi ad ascoltare la voce di Dio e non è che la voce di Dio sia da intendersi come una locuzione improvvisa che ti arriva no la voce di Dio è ricordare la parola della scrittura che tu hai ascoltato la voce di Dio in quel silenzio magari è concentrarti su un volto su una situazione su una persona e chiederti che cosa avrebbe fatto il Signore in quella circostanza ecco il silenzio raggruppa un po' mette insieme fa spazio esatto e che il silenzio faccia spazio lo abbiamo visto proprio dal comportamento del Santo Padre perché appena ha finito di pregare il suo occhio il suo sguardo è andato su quelle persone in difficoltà che erano lì vicino a lui e lui si è fermato le ha accolte questo è un frutto del silenzio Papa Francesco lo vedete sta lasciando la Basilica di Santa Maria Maggiore e sta per raggiungere invece Piazza di Spagna per un altro atto devozionale questo ormai insomma che ha una storia che si ripete dal 1854 proprio nel giorno della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione io direi che possiamo approfittare del viaggio di Papa Francesco di questo piccolo pellegrinaggio un viaggio brevissimo per fare una piccola pausa mentre vedete già pronte le immagini in diretta da Piazza di Spagna ci vediamo tra pochissimo di nuovo in diretta dove andiamo subito a Piazza di Spagna dove sta per arrivare Papa Francesco che l'abbiamo visto pregare davanti all'icona di Maria Salus Populi Romani adesso è atteso da tantissime persone in Piazza di Spagna per il consueto omaggio all'Immacolata ci facciamo raccontare tutto in diretta da Piazza di Spagna da Rita Salerno Sì, buon pomeriggio buon pomeriggio a voi da studio e a quanti ci stanno seguendo in questo momento sì, infatti l'attesa è febbrile anche in una giornata così fredda e gelida l'attesa di Papa Francesco sta crescendo di minuto in minuto e starà qui proprio tra pochissimo Papa Francesco che sarà accolto lo ricordiamo dal Cardinale Vicario Angelo De Tonati e dalle autorità civili il Papa sarà qui sosterà in preghiera ma prima offrirà alla Vergine la statua della Vergine come è sempre stata questa consuetudine offrirà una composizione di fiori ricordiamo che prima di lui lo hanno proceduto questa mattina i vigili del fuoco alle sette hanno messo come è da prassi come è da consuetudine una corona di fiori sul braccio della Vergine Maria proprio per ricordare questo atto di devozione in questi minuti credo che stia proprio per arrivare il Pontefice perché vedo dei movimenti alle mie spalle come potete vedere appunto c'è tantissima gente tante persone che attendono il Papa il Papa che oggi oltre all'Angelus dalla finestra del suo studio ricordiamo che il Pontefice ha sofferto in questi giorni per una bronchite acuta che non gli ha permesso di parlare regolarmente mentre oggi ha recitato l'Angelus la preghiera mariana dell'Angelus prima con tono affaticato poi la voce è tornata normale e oggi prima di essere qui a Piazza Mignanelli per l'atto di devozione nei confronti appunto della statua della Vergine Maria è stato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per portare un dono come hanno fatto due pontifici prima di lui ben 400 anni fa una rosa d'oro come segno di devozione nei confronti della Vergine Maria dell'icona Salus Populi Romani a cui è particolarmente devoto ricordiamo che ad ogni viaggio il Pontefice si reca sia prima che dopo fa tappa proprio in questa Basilica di Santa Maria Maggiore per ringraziare la Vergine e per mettere sotto la sua protezione i suoi viaggi internazionali ma non solo è stato spesso a questa icona in questa cappella della Basilica e lo ha fatto il giorno stesso dopo la sua elezione nel marzo del 2013 per l'esattezza si è regato il 14 marzo del 2013 ecco e questo è un segno appunto importante che Papa Francesco ha voluto fare anche oggi non ha voluto mancare a questo appuntamento restituisco la linea allo studio grazie Rita mentre vediamo l'arrivo di Papa Francesco ormai quasi in piazza di Spagna qual è la storia di questa devozione dei papi ma i papi sono sempre stati molto devoti nei confronti di Maria come la tutta santa cioè i papi si sono resi conto che il vero segreto per governare la Chiesa non sono le tecniche di governo ma il vero segreto per governare la Chiesa è diventare santi e allora ecco la devozione a Maria la tutta santa se la santità è il segreto che rende viva la Chiesa allora a maggior ragione il Vescovo di Roma sente una particolare chiamata alla santità e vede in Maria la madre che lo prende per mano perché questa vocazione diventi in realtà perché Maria la festeggiamo in tanti momenti dell'anno la festeggiamo appunto oggi festeggiamo l'Immacolata ma festeggiamo poi l'Assunta l'Annunziata Maria Bambina per non parlare poi come dire delle feste locali legate appunto all'Urd a Fatima ma anche a tanti santuari sparsi nel mondo che hanno tutti una una loro data noi celebriamo tante volte Maria nel corso dell'anno e dell'anno liturgico perché Maria è stata associata strettamente ai misteri della salvezza che noi viviamo nella celebrazione liturgica e allora il ricordo di Maria è il ricordo di colei che davanti al mistero della salvezza ha saputo immergersi in quel mistero al punto tale da essere oggi ciò che la Chiesa desidera essere quando celebra la liturgia essere come Maria immergersi nel mistero della salvezza come Maria quella a cui stiamo per assistere però oltre a essere un atto di devozione quindi un omaggio floreale appunto una deposizione sulla sommità di questa statua è una vera e propria preghiera indimenticabile quella accompagnata dalle lacrime dello scorso anno per per la pace l'abbiamo sentito comunque poi sempre pregare per la città di Roma anche oggi non è quella a cui sentiremo non è un'omelia ma una preghiera accorata intensa intanto vediamo il Papa a scendere ed essere accolto dal Cardinal De Donatis e dal Sindaco Gualtieri ma d'altra parte questa preghiera ci dice quanto sia importante nella vita mettere da parte la propaganda noi abbiamo una vita guidata dalla propaganda cioè altri scelgono per noi quello che bisogna dire quello che bisogna sentire quello che bisogna vedere invece questo è il momento in cui fare verità e allora ecco perché questa preghiera è così forte perché è un momento di verità qui non stiamo per fare propaganda qui stiamo per fare verità e avere gli occhi aperti su ciò che è il mondo su ciò che è la vita su ciò che è la realtà e allora lasciamo spazio anche noi alla alla preghiera forse vale la pena visto che purtroppo il segnale internazionale ha avuto diversi problemi vale la pena rileggere la preghiera di Papa Francesco vergine immacolata veniamo a te con il cuore diviso tra speranza e angoscia abbiamo bisogno di te madre nostra ma prima di tutto vogliamo ringraziarti perché in silenzio com'è nel tuo stile tu vegli su questa città che oggi ti avvolge di fiori per dirti il suo amore in silenzio giorno e notte vegli su di noi sulle famiglie con le gioie e le preoccupazioni tu lo sai bene sui luoghi di studio e di lavoro sulle istituzioni e sugli uffici pubblici sugli ospedali e le case di cura sulle carceri su chi vive per strada sulle parrocchie e tutte le comunità della Chiesa di Roma grazie per la tua presenza discreta e costante che ci dà conforto e speranza abbiamo bisogno di te madre perché tu sei l'immacolata concezione la tua persona il fatto stesso che tu esisti ci ricorda che il male non ha né la prima né l'ultima parola che il nostro destino non è la morte ma la vita non è l'odio ma la fraternità non è il conflitto ma l'armonia non è la guerra ma la pace guardando a te ci sentiamo confermati in questa fede che gli avvenimenti a volte mettono a dura prova e tu madre rivolgi i tuoi occhi di misericordia su tutti i popoli oppressi dall'ingiustizia e dalla povertà provati dalla guerra guarda al martoriato popolo ucraino al popolo palestinese e al popolo israeliano ripiombati nella spirale della violenza oggi madre santa portiamo qui sotto il tuo sguardo tante madri che come è successo a te sono addolorate le madri che piangono i figli uccisi dalla guerra e dal terrorismo le madri che li vedono partire per viaggi di disperata speranza e anche le madri che cercano di scioglierli dai lacci delle dipendenze e quelli che li vegliano in una malattia lunga e dura oggi Maria abbiamo bisogno di te come donna per affidarti tutte le donne che hanno sofferto violenza e quelle che ancora ne sono vittime in questa città in Italia e in ogni parte del mondo tu le conosci ad una ad una conosci i loro volti asciuga ti preghiamo le loro lacrime e quelle dei loro cari e aiuta noi a fare un cammino di educazione e di purificazione riconoscendo e contrastando la violenza annidata nei nostri cuori e nelle nostre menti e chiedendo a Dio che ce ne liberi mostraci ancora o madre la via della conversione perché non c'è pace senza perdono e non c'è perdono senza pentimento il mondo cambia se i cuori cambiano e ognuno deve dire a partire dal mio ma il cuore umano solo Dio lo può cambiare con la sua grazia quella in cui tu Maria sei immersa fin dal primo istante la grazia di Gesù Cristo nostro Signore che tu hai generato nella carne che per noi è morto e risorto e che tu sempre ci indichi lui è la salvezza per ogni uomo e per il mondo vieni Signore Gesù venga il tuo regno d'amore di giustizia e di pace cosa ti colpisce di questa preghiera quali frasi in particolare ma certamente questo richiamo al fatto che Maria cammina nelle nostre città cammina nelle nostre strade ma non lo fa in maniera che ci sia il codazzo davanti e dietro a lei questa è una prima cosa il silenzio di cui parlava il Santo Padre dall'altra parte mi colpisce questa profonda vicinanza di Maria alle madri che perdono in un modo o nell'altro i loro figli e sono sia le madri che devono sperimentare la guerra il terrorismo ma sono anche le madri come diceva il Papa che vedono partire i loro figli per dei viaggi della speranza che di speranza non hanno nulla sono viaggi di tortura che spesso finiscono anche nella morte e in una morte silenziosa che nessuno vede e nessuno conosce e poi mi colpisce anche questa vicinanza di Maria come donna alle donne che sono oggetto di violenza che sono oggetto di violenza perché abbiamo una cultura del possesso abbiamo una cultura della prevaricazione per cui tutto deve essere a nostra misura a nostro piacimento e la capacità di accogliere l'altro la capacità di accogliere il diverso viene sempre meno ecco queste tre realtà mi colpiscono particolarmente ti rubo il mestiere tu hai sottolineato tanti aspetti legati proprio anche alla vita al tempo che stiamo sperimentando a me è colpito un dettaglio teologico perciò dico ti rubo il mestiere quando il Papa pregando dice la tua persona ci ricorda che il male non ha né la prima né l'ultima parola mi colpisce perché noi siamo abituati a sentirvi dire che il male non ha l'ultima parola molto più raramente sentiamo che il male non ha neanche la prima cioè se capisco che veniamo dal bene veniamo dall'amore e lì siamo destinati sì questo è vero è un aspetto che difficilmente si sottolinea nella nostra predicazione ma il Papa ha fatto bene noi veniamo dal bene se noi esistiamo la nostra esistenza deriva da una volontà di bene che è la volontà di Dio noi non veniamo da errori di percorso noi non veniamo da gravidanze desiderate perché così magari si accresce il prestigio della famiglia o si possono ricevere tante cose alla radice della nostra esistenza c'è il sì di Dio un sì che mi ha fatto esistere ed è questa la parola di bene che è superiore a qualunque male perché il male non può impedire a Dio di creare nuovi esseri umani il male non può impedire a Dio di voler bene il male può soltanto cercare di ingannare e dire guarda tu vieni dal nulla e vai verso il nulla ma in realtà il male non può impedire a Dio di amare quindi il male non può impedire a Dio di farci nascere in questa vita e di farci rinascere in quella che sarà la resurrezione dai morti allo stesso tempo però qui e ora ci tocca e dentro la preghiera un cammino di educazione e purificazione dice la preghiera che abbiamo quasi ascoltato da Papa Francesco e allora ti domando questa festività questa solennità che cosa che tipo di cammino di purificazione di conversione ci suggerisce in particolare ma io credo che ci suggerisca due strade in modo particolare la prima è quella di uscire dal fatalismo cioè la mia vita è questa non cambierà mai siamo tutti fatti così e allora cerchiamo di trovarci la nostra piccola nicchia in questo mondo ecco la festa di oggi ci invita invece ad uscire fuori da questa mentalità assolutamente la vita nelle mani di Dio può diventare qualcos'altro la vita nelle mani di Dio può diventare una realtà preziosa la vita nelle mani di Dio ti può portare ben oltre quello che il mondo o la società si aspettano da te ecco credo questa sia una prima strada la seconda strada è quella di purificare noi stessi da tutto ciò che ci rende inabili al perdono perché è vero che il perdono è un grande dono di Dio però è altrettanto vero che il perdono può trovare nella nostra vita uno spazio a condizione che noi sappiamo lasciare da parte tante realtà lasciare da parte un desiderio di giustizia che per esempio assomiglia molto alla vendetta che è tutt'altra cosa lasciare da parte anche un'amarezza dentro di noi che è quella che poi ci rende non solo cinici ma ci rende poi dopo alla fine sfiduciati nei confronti di tutto e di tutti ecco io credo che questa sia una seconda strada perché come ricordava il Papa la pace o si fonda sul perdono o non c'è quindi vuol dire che per avere pace occorre fare qualcosa che immediatamente non sembra alla portata di tutti che potrebbe non essere naturale rispetto ai propri istinti al tempo stesso però nella stessa preghiera il Papa sottolinea che la pace e lo stesso perdono si fanno in due non è un gesto unilaterale perché dice non c'è perdono senza pentimento esattamente è un atto il perdono che può essere a volte al limite delle nostre capacità ma non è un eroismo unilaterale no non è un eroismo unilaterale e soprattutto se io dovessi far precedere il perdono cioè se io volessi scegliere di perdonare prima che l'altro manifesti un cambiamento io questo lo faccio solo per incentivare quel cambiamento lo faccio solo perché questa conversione questo cambiamento possa essere qualcosa che non prende solo me e quindi rimane in un certo senso sterile da questo punto di vista ma sia qualcosa che conquista anche l'altro di generativo in qualche modo sì senti abbiamo raccontato a inizio della puntata del dogma dell'immacolata concezione che per noi è una verità di fede dal 1854 però questo dogma affonda in una tradizione in una devozione in un sensus fidei del popolo di Dio che da molto prima credeva appunto che Maria fosse nata senza peccato originale qual è la storia? ma la storia noi la vediamo già dalla scrittura se noi rileggiamo come oggi abbiamo ascoltato d'altra parte nella celebrazione liturgica il brano dell'annunciazione quel rallegrati piena di grazia quel dire il Signore è con te sono parole che ci mostrano come Maria sia piena di Dio e allora il dogma che cosa fa? il dogma viene semplicemente a esplicitare cioè a rendere chiaro questa abitazione questa luce che Dio ha posto in Maria il fatto di abitare lui in questa donna in modo del tutto particolare ecco il dogma affonda le sue radici nella scrittura se uno si dovesse chiedere da quando il popolo di Dio ha creduto in ciò che il dogma dice da quando Luca ha composto il suo Vangelo da allora questo fatto che Maria sia piena di Dio e che la pienezza di Dio in Maria sia qualcosa che non riguarda solo lei ma anche noi perché l'amore di Dio non può essere separato dall'amore del prossimo ecco che da lì è cominciato poi quel cammino di riflessione che con le parole della teologia e della dottrina è poi confluito in quello che è tecnicamente il dogma cioè preservazione dalle conseguenze del peccato di origine oggi il Papa all'Angelus ci ha segnalato che appunto l'episodio dell'annunciazione è il primo cronologicamente di cui i Vangeli parlano con il protagonista Maria nei Vangeli prima di quell'episodio dell'annunciazione non c'è traccia di Maria eppure noi prima ricordavamo l'infanzia di Maria Maria Bambina abbiamo devozioni narrazioni anche su stagioni precedenti anche queste cose fanno parte del patrimonio della devozione della tradizione da dove vengono queste storie? ma in fondo sono come una teologia popolare ecco prima dicevamo il dogma si esprime in maniera tecnica quindi si esprime con il linguaggio della dottrina con il linguaggio della teologia di scuola potremmo dire così invece questo patrimonio di devozione si esprime come teologia del popolo cioè il popolo si chiede il giorno dell'annunciazione Maria ascolta le parole dell'Arcangelo e le parole dell'Arcangelo sono le parole della scrittura e allora come fa Maria a comprendere le parole della scrittura lei che era una donna e quindi se consideriamo la mentalità dell'epoca era qualcuno che non doveva conoscere così bene le parole della scrittura ma perché Maria le capisce perché Maria è di casa in quelle parole e proprio perché è di casa in quelle parole se ne domanda il senso ecco che la teologia popolare risponde perché Maria è tutta santa sin dall'inizio della sua vita quindi anche quando era bambina anche quando era ragazza ha vissuto in maniera tale che queste parole entrassero nella sua mente nel suo cuore e allora ecco che abbiamo i Vangeli Apocrifi per esempio che ci dicono che Maria viene introdotta nel Tempio a tre anni nel Santo dei Santi e lì rimane ecco sono modi appunto di trasmettere ciò che è l'intuizione del popolo Maria il giorno dell'annunciazione era preparata cioè quel giorno in un certo senso è arrivato come un fulmine a ciel sereno ma quel giorno Maria era pronta diciamo era caduto su un terreno fettile esattamente che cosa l'ha resa pronta ecco per riprendere proprio l'immagine del terreno fertile e la parabola di Gesù perché Maria era terreno buono e non era terreno sassoso non era il terreno della strada perché questo seme era sceso in profondità esattamente perché era un terreno curato esattamente perché e allora la risposta tecnica del dogma è perché sin dal momento del suo concepimento Dio ha agito in lei per preservarla dal male dal maligno quindi da ciò che il maligno fa con ciascuno di noi la risposta del popolo è appunto quella di dire Maria è entrata nel tempio è rimasta nel tempio è uscita fuori dal tempio soltanto quando era il momento era pronta esattamente abbiamo evocato le parole dell'Angius le sentiremo tra pochissimo alle 17 e 30 con il consueto appuntamento del diario di Papa Francesco io ringrazio davvero padre Gianmatteo Roggio e vi do appuntamento a meno tra meno di un'ora grazie